Intanto saluto ben volentieri i podisti che ci guarderanno. La parte tecnica, piccole variazioni in quanto prima per oltre 20 anni siamo partiti Piazza San Giustino, caratteristica della città di Chieti. Adesso per i lavori che stanno facendo per la ristrutturazione facciamo partenza e arrivo alla villa comunale dove si svolgeranno all'interno della villa le gare dei bambini e dei ragazzi. Invece il percorso della gara competitiva sarà quasi totalmente uguale al precedente con l'esclusione di Piazza San Giustino. Gli orari, brevemente, voglio ricordare, i bambini partiranno alle 19 e la gara competitiva alle 20 e 30. Edizione numero? Edizione 22. Con il pit stop, come dico io, stiamo a 25 anni di questa manifestazione, voluta dalla famiglia Spatocco e dall'imprenditore Luciano Pozzolini, recentemente scomparso. Vi attendete una folta partecipazione perché adesso c'è voglia di tornare a correre. Infatti, le sensazioni non sono solo ottime ma anche di più perché Chieti è una delle più belle gare che si svolgono in Abruzzo. Quindi ci sono veramente dei presupposti. Ha chiamato anche qualche straniero che vorrebbe partecipare. Vedremo un po'. Paolo Boncio, il vicepresidente USA Climaraton Chieti. Da qualche tempo, da qualche stagione, abbinato a questa corsa, c'è il patrocinio anche dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Perché? Che cosa vi proponete di fare? Allora, sì, come ha detto, da un po' di anni l'Università è sempre ben felice di partecipare all'organizzazione della gara con l'obiettivo di essere sul territorio per valorizzare e contribuire alla bella riuscita di iniziative come questa che finalizzate al benessere psicofisico della popolazione, degli studenti, del personale dell'UDA. E quindi partecipiamo dando un patrocinio tramite il CRAD, che è il circolo ricreativo dell'Ateneo d'Annunziano, che al suo interno ha vari gruppi sportivi, fra cui uno podistico. Il CRAD contribuisce offrendo due trofei, che saranno i premi del primo e della prima classificati della gara competitiva. E inoltre, insieme all'Università, parteciperà un'associazione no profit, il cui compito è quello di aiutare i pazienti oncologici finanziando la ricerca scientifica, la formazione tramite la scuola di specializzazione di radioterapia oncologica dell'Università, ma anche finanziando iniziative finalizzate a migliorare quella che si chiama umanizzazione della terapia oncologica. Grazie a tutti.